Ciao ragazzi bentornati, io sono Marco Agustoni di Illustrator Startup.com e oggi vi spiego come si utilizza lo strumento gomma di Illustrator. Ok allora lo strumento gomma come potete immaginare permette di cancellare quindi di rimuovere porzioni di tracciati. Ma vediamo subito come si utilizza. Allora lo strumento gomma si trova qui sulla sinistra all'interno del pannello strumenti, si trova esattamente sotto lo strumento pennello ed è anche attivabile con la combinazione di tasti shift e quindi selezioniamo lo strumento e vedete che il nostro cursore si trasforma in una matita con un simbolo di divieto. Questo perché non abbiamo alcun elemento da poter cancellare. Quindi andiamo prima a creare per esempio un rettangolo, andiamo ad applicare a quest'ultimo un colore di riempimento azzurro, ok, e a questo punto possiamo utilizzare la nostra gomma. Come si utilizza la gomma? Allora è molto semplice, basta fare clic e trascinare, quindi tenere premuto il tasto sinistro del mouse e trascinare per andare a cancellare le porzioni che desideriamo. Vedete che abbiamo rimosso questa parte del rettangolo e Illustrator ha prodotto comunque due forme chiuse, infatti la gomma va a produrre e a mantenere sempre delle forme chiuse. Ovviamente in questo caso posso spostare le forme, qui ha mantenuto anche altri tracciati che posso andare a rimuovere. Ok, quindi lo strumento gomma ci permette di cancellare ma anche di modellare i nostri tracciati, quindi potrei andare per esempio a modellare questo elemento, in questo modo. Faccio un po' di CTRL o CMD Z perché voglio mostrarvi anche un'altra cosa. Allora facciamo un doppio clic sullo strumento gomma e accediamo alla finestra di opzioni. Qui abbiamo tre voci, abbiamo la voce angolo, rotondità e dimensione. La voce dimensione, come potete immaginare, va a definire la grandezza del cursore, quindi vogliamo un cursore più piccolo, nove punti, anzi cinque punti, diamolo ok e vedete che posso andare a utilizzare lo strumento gomma in questo modo. Vogliamo un cursore un po' più grande, andiamo a 274 e possiamo ovviamente cancellare l'intera forma. Però non è tutto perché abbiamo altre due voci che sono rotondità e angolo e che andiamo a vedere subito, quindi la voce rotondità ci permette di modificare la forma del cursore, vedete che posso modificare la forma e qui con la voce angolo posso andare a ruotare di fatto il mio cursore, quindi a decidere un angolo di rotazione. Do l'ok e vedete, forse è un po' troppo grande, diminuiamo un po' la dimensione e vedete com'è adesso il cursore, posso andare a testarlo in questo modo. Ok, quindi vedete che ho ottenuto ancora due forme, due forme separate e posso quindi andare a cancellare o a modellare addirittura i miei tracciati. Un'ultima cosa riguardo lo strumento gomma, allora potremmo avere più elementi, quindi per esempio diverse forme, in questo caso dei rettangoli con diversi colori, potremmo avere per esempio un'illustrazione piuttosto che un disegno e potremmo avere la necessità per esempio solo di cancellare alcune porzioni di questo rettangolo qui più grande. E come facciamo? Allora dovete sapere che se abbiamo un elemento selezionato la gomma andrà a agire solo su questo e quindi in questo caso ci basterà selezionare l'oggetto da modellare piuttosto che da cancellare e ovviamente il illustrator andrà ad agire solo su quest'ultimo. Vedete? Se rilascio il cursore le altre forme sono rimaste intatte e invariate e lo strumento è andato ad agire solo su questo rettangolo. Quindi se avete più elementi sovrapposti e volete cancellare solo determinate aree, ricordatevi di selezionare l'elemento che volete modificare e lo strumento gomma interverrà solo su questo. Ok ragazzi, vi ho spiegato sostanzialmente che cos'è lo strumento gomma. In realtà abbiamo altre opzioni qui molto interessanti che ho analizzato nel dettaglio all'interno del mio corso Illustrator Startup nel quale fra l'altro andremo a vedere anche due strumenti molto interessanti che sono lo strumento forbici e lo strumento cutter. Quindi se volete imparare tutti gli strumenti di Illustrator, i pannelli, le funzioni, insomma volete diventare degli esperti di Illustrator, fate un clic sul link in descrizione e accedete ad Illustrator Startup. Grazie.